Ciao amici di Italia Talk Games, nuovo video sul nostro canale YouTube che ovviamente potete vedere anche sul nostro sito e abbiamo deciso di fare un'anteprima sui generis, cioè appunto parlata, per la Closed Beta di Sea of Thieves, il nuovo gioco di Rare, notissima tra i videogiocatori di vecchia data, qualche nome Donkey Kong Country, GoldenEye 007, Banjo Kazooie e tanti altri, che sta realizzando per Microsoft un titolo esclusivo a Xbox, diciamo Xbox Windows, infatti questa beta noi l'abbiamo provata un pochino su Xbox One e un pochino su Windows 10 per PC, perché appunto è anche crossplay, quindi i giocatori potranno giocare tranquillamente sia su Xbox One che su Windows, basta una copia del gioco e lo potrete giocare su entrambi. È un titolo che cerca di mescolare generi diversi, prima di tutto, come forse già sapete, si tratta di una sorta di simulatore di vita di pirati, i pirati dei mari, non quelli informatici, e in qualche modo il gioco è una sorta di MMO, un universo online persistente e si tratta di un gioco in cui tutte le fasi della vita di un pirata saranno particolarmente seguite e quindi non ci saranno viaggi veloci, non ci saranno espedienti per fare un quick game, no, no, qui tutto è da fare con molta chiarezza, con molta precisione, quindi c'è il viaggio sulla nave, la ricerca dei tesori, mettere assieme la ciurma e quindi come dire, un gioco di un certo spessore che appunto proprio per le sue caratteristiche richiederà un po' di tempo per essere fruito al meglio. La prima cosa, appena abbiamo fatto partire la beta, non senza qualche piccolo intoppo sui server, solo dopo due o tre tentativi finalmente il gioco ci ha permesso di entrare, ma dopo non ci ha dato assolutamente problemi. Come vi dicevo, la prima cosa da scegliere è se vorremmo giocare in ciurme composte fino a quattro giocatori o da soli e diciamolo subito, si può giocare da soli, ma il bello di questo gioco è proprio fare la propria ciurma di pirati e navigare assieme, anche perché navigare assieme è importante perché appunto si tratta di un gioco online e di un mondo persistente in cui un'altra nave di pirati potrebbe ad esempio assalirvi e rubarvi il tesoro che avete catturato qualche istante prima e quindi è importante avere una buona ciurma. Pensando, come dire, alla versione completa che uscirà a marzo, speriamo che qualche piccola cosa venga un po' sistemata, perché? Perché quando siamo sulla nave, se gli altri giocatori votano per farci entrare in cella e concludersi lì la nostra avventura, ci dobbiamo sloggare e rientrare nel gioco a cercare un'altra ciurma, è un po' un po' bremino. Giustamente questa cosa è stata fatta per i giocatori che danno fastidio, per i troll e cose simili, però a volte possono essere troll la maggioranza, gli altri due o tre che sono con noi o che comunque per qualche ragione ci vogliono dare fastidio. C'è trovare un po' in equilibrio, è una questione che riguarda un po' tutti i giochi online, quindi sicuramente bisognerà un attimo sistemare la cosa, ma noi siamo certi che questo accadrà. Comunque in questa close beta si poteva fare tendenzialmente una cosa, andare alla ricerca di tesori perduti, appunto il viaggio, l'arrivo nel porto, la ricerca del tesoro, all'inizio ci saranno pochissimi indizi, piano piano li dovremo andare a trovare, quindi è un gioco che riprende anche delle dinamiche, fra virgolette, old school, all'interno di un mondo di gioco invece molto innovativo, molto persistente e molto recente, diciamo appunto gli MMO. Quando andiamo in barca si potranno fare varie attività, il cartografo, come dire, controllare vari aspetti della nave, si potrà anche suonare e la cosa divertente è che se prima di iniziare il viaggio ci eravamo ubriacati, la nostra musica sarà un po' scadente, diciamo così. E un altro aspetto è che è un titolo anche una componente action, ci siamo trovati ad affrontare degli scheletri di pirati passati che volevano impedirci di prendere i tesori. Sicuramente questa versione ancora non era completa, è una closed appunto, però ci ha già convinto abbastanza, il titolo ha ottime potenzialità, ovviamente appunto c'è questo discorso della cella da sistemare, così come è da sistemare il fatto che erano molto pochi i personaggi non giocabili e gli animali presenti, speriamo che appunto saranno più numerosi nella versione finale del gioco. Graficamente il gioco si comporta bene, è molto fluido devo dire, è fluidissimo in tutte le situazioni, almeno su PC, abbiamo giocato di più sulla versione PC e non abbiamo avuto problemi di sorta, grafica molto cartoon come potete vedere dalle immagini che state apprezzando, l'atmosfera in generale, tutto il sonoro, le condizioni climatiche aiutano ad entrare in questo mondo in modo molto piacevole, assolutamente molto piacevole, quindi un titolo che da questa closed è uscita molto bene sicuramente, ci sono aspetti ancora da sistemare che vorremmo vedere nel gioco completo e lì dopo faremo una recensione testuale old school in classi, nella modalità classica, però da qui al 20 marzo sicuramente Rare sistemerà queste piccole cose, ci sono ancora 50 giorni, quindi dopo come sapete soprattutto per i giochi online gli update arrivano anche dopo il day one e siamo sicuri che tramite questi feedback sia dei giocatori che dei siti sistemeranno un po' queste cosine da limare. Sicuramente ecco in questa closet si potevano solo fare le caccia al tesoro, Rare ha già detto che ci saranno altre cose da fare, addirittura si focifera di una battaglia con il Kraken che è il mostro marino più famoso e quindi vedremo, vedremo un po' se queste promesse saranno mantenute e trasformeranno Sea of Thieves in un buon titolo ad un eccellente titolo perché, e noi ce lo auguriamo ovviamente perché la prima impressione ci è veramente piaciuta. Come dire, poi ecco questo aspetto del multiplayer online si fa sentire perché proprio le battaglie contro le navi sono stati gli aspetti che ci hanno divertito di più con le battaglie con i cannoni e quindi come dire, le premesse sono veramente buone, ci sono poi tutte le possibilità di abbellire i vostri personaggi come vuole la tradizione degli MMO e ci sono tante cose da fare, un mondo credibile soprattutto anche se di fantasia perché appunto quello dei pirati oramai è un mondo dimenticato che si mette sulla linea di confine tra la storia e la narrazione e la fantasia perché i pirati sono esistiti ma quello che poi viene riportato da saghe cinematografiche come Pirati dei Carabio ovviamente è innestato in un universo immaginifico di fantasia. Quindi come dire, se avete Xbox One e o avete PC tenete in considerazione questo gioco perché potrebbe essere veramente uno dei prodotti più interessanti di questo inizio 2018. Ci aggiorniamo al 20 marzo per la recensione quando avremo modo di provare il gioco completo. Io intanto vi ringrazio per l'attenzione, se avete provato anche voi il gioco lasciate i commenti sul nostro canale YouTube o sul nostro sito italiatalkgames.it Ci vediamo a presto e al prossimo filmato. Ciao! Grazie a tutti!